Uè non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Can you hear that dream? Seguire tutto il percorso distruggere l'armadio scendere e spaccare anche questo muro aprire la porta subito a sinistra la seconda porta ed ecco qua in questa posizione ragazzi apparirà il fort bite numero 37 io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live ciao Grazie a tutti